La notte delle stelle cadenti si avvicina e a Cartoceto torna l'appuntamento con stelle d'argento. Domenica 13 agosto dalle 19, i suggestivi locali del Borgo Antico si vestono di magia, tra musica, eccellenze della buona tavola e desideri da affidare alle stelle. E dopo cena, visita il Museo del Palì. Scopri il programma sui social di Cartoceto Turismo e ProlocoCartoceto.com